Sono iniziati i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della struttura che ospita la Sala Operativa Integrata di Protezione Civile a Pesaro. I lavori dal costo complessivo di oltre un milione di euro restituiranno alla comunità un edificio all'avanguardia e con elevata efficienza energetica. Sarà un edificio di classe quarta, quindi quegli edifici strategici che devono funzionare durante le emergenze. Questo lo facciamo ovviamente sugli edifici di protezione civile, ma lo facciamo anche sugli ospedali. Pesaro in questo momento sta recuperando il gap dei decenni passati dei mancati investimenti, Pesaro e la provincia di Pesaro e Urbino. Frutto della grande attenzione di questa maggioranza regionale nel recuperare le diseguaglianze territoriali. Quindi c'è stato un cambio di passo con la giunta Acquaroli. In questo momento il cambio di passo ormai dato per assodato diamo continuità all'azione della giunta Acquaroli con interventi strategici e puntuali in tutto il territorio. Una volta ultimati i lavori, la struttura situata in località Villa Fastigi diverrà anche sede del 118. Questa è una riqualificazione importante che ci permette di avere una struttura strategica adeguata alla normativa, che fino adesso ancora non è stato fatto. E anche il primo edificio regionale, no zero energy building, quindi enzebbe a consumo praticamente nullo. Credo anche architettonicamente sarà un bel edificio dove oltre alla SOI verrà ospitata anche la nuova sede del 118 e ci sarà quindi tutto il centro allineo delle emergenze con due ambulanze pronte alla partenza in caso di emergenze. Una riqualificazione necessaria, dice il consigliere regionale Nicola Bagliocchi, perché ridà dignità agli operatori che da tempo lavorano in pessime condizioni. Un progetto che parte da molto lontano e quindi grazie all'assessore, all'assessorato e tutta la volontà del Presidente Acquaroli e di tutta la Giunta di cercare di portare a termine delle opere che magari sono iniziate nei presenti amministrazioni ma che erano rimaste incagliate. Quindi benissimo, benissimo per la SOI e per il 118 che aspetta questo stabile tantissimo tempo per ridare dignità degli operatori che lavoravano veramente in condizioni veramente pessime.